Eeeeh, ciao cari, sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvel Snap, sono un po' pesantito, appena finito pranzo, tra un po' sbocco, non vi farò vedere ma sboccherò. Ho sboccato, sto un po' meglio, dicevamo, siamo live su, no, e ah, oh, scarica Domino Dreams, ancora questo mese, amore mio, Domino Dreams supporta la nostra trasmissione e manda avanti la baracca, devi cliccare il link in descrizione e scaricare l'app, amore mio, un minuto e non devi fare più niente, grazie a tutti quelli che lo faranno, regà, è un buon modo per supportarmi e per, insomma, farmi guadagnare qualcosa, ovviamente che poi è un po' quello il mio lavoro. È il mio lavoro, devi solo fare il download, solo fare il download e scoperai per 20 anni e poi morirai, però, insomma, meglio scopare per 20 anni e poi morire, oppure meglio campare 100 anni e non scopare. Vabbè, domanda, oh, oggi, tribunale, vivente, non dico nient'altro, ti faccio vedere il mazzo, preparati, perché attualmente è uno dei miei mazzi preferiti, attualmente, questo qui è troppo, troppo bello, guarda. Capo, va saputo giocare, va saputo giocare, è un mazzo molto complesso questo qui, ma io sono qui apposta per condividere, ovviamente, la mia sapienza, la mia sapienza con te. Allora, di base, importantissima, tribunale, vivente, bounce, fondamentale, voi dovete giocare con le vostre, ovviamente, carte move, andando a snowballare con i vostri carry, Human Torch, Dagger e Vulture. Ah, regà, è normale che il vostro carry principale è Human Torch, è evidente che sia Human Torch, perché è quello che riesce esponenzialmente a aumentare il suo body, per poi giocare ultimo turno l'even tribunal, importantissimo, visto Falcon, soprattutto, visto di turno 5, per riprendervi Human Torch a perdere Prio e evitare, per l'appunto, che un Killmonk, uno Shadow King o uno Shen Chi vi possano uccidere quello che è il motivo della vostra vittoria, ok? Questo è quanto, il mazzo è complesso, quindi, step by step, step by step. Sono fatto malissimo alla mano, dicendo step by step, ma vabbè. Quindi, datemi un attimino oggi una pausa dalla carta nuova Scarlet Spider, tra le altre cose, siamo già là su Twitch, ragazzi miei, questo venerdì. Siamo già là dalle 12, perché stiamo approfittando degli sconti che Twitch mi riserva per l'esa gift, e quindi ho un po' spinto, diciamo, no? Anche in funzione del SIS, che è veramente un evento che vorrei fare, è veramente un evento che vorrei fare. Va bene, passo, Madam Web, into Dagger sinistra e poi vediamo. Vediamo, Baxo Bullying. Ok, continuiamo con Madam Web, diciamo che non è che abbiamo troppa roba per poter scala. Ottimo bis, ottimo tribunale, ok, mancano i punti, perché comunque Dagger non so se ne fa tanti. Più che altro, capito? Mi servirebbe Vulture, Human Torch, roba di questo tipo. Human Torch, ragazzi, è qualcosa, è qualcosa. Iron Force, Human Torch, anche se noi dobbiamo fare Beast, poi. Quindi, forse, facciamo Iron Force, Human Torch, in modo che poi Human Torch lo possiamo spostare e ci possiamo fare Beast. Quindi, sì, diamo due punti a Nebula, ragazzi, ma l'assicuro che è positivo. Questo è già un grosso errore. Cioè, se voi fate Human Torch, se voi fate Iron Force sinistra, fate Iron Force sinistra, potrebbe essere un errore. Poi, se pescate Falcon, è un errore perdonabile. Se non pescate Falcon, è un errore importante. Vediamo. Storm. A noi Storm non ci cambia nulla, a meno che poi non fa War Machine in tu... Capisci, no? Non ci cambia nulla perché non fa male, diciamo. Cioè, è normale che stai soffando War Machine. Hai capito, no? Ok, fa Scarle e Spider, ragazzi, va bene. Va bene. Abbiamo trovato Falcon, non ci facciamo nulla di Falcon. Ehm... Vulture... Beast... Falcon. Ora! Ultimo turno, ovviamente, famo la combo. Non so se riusciremo a vincere sta partita, però dobbiamo un attimino contare... Nella speranza di capire se ci bastano i buff, perché... Human Torch è piccola, ragazzi, è una 16. Ah. È anche vero che lui potrebbe foldare perché il nostro turno di Beast Human Torch è veramente molto forte. Quindi lui potrebbe foldare perché qui, se avessi avuto Imdall, avrei sicuramente vinto la partita. Vediamo. Ero un posto? Vulture. Io non sono convinto che bastino questi punti, purtroppo. Allora, 16, 17, 20, 25... 34... 44, 46... 55 diviso 3... Calcolatrice, ragazzi, non c'ho voglia, non c'ho voglia. 55 diviso 3... Sono 18.3 punti allocation. La sinistra sta già a 18. E che ho molta paura di Alliot, capito? Molta paura di Alliot. Eh, si perde, raga. Si perde. Peccato. Non... Non potevo fare niente di più rispetto a quello che ho fatto. Questa è una 16 che darà un 4 punti. Cioè, 4 punti a 18, come vi dicevo. Peccato. Peccato. Scalato troppo poco su Human Torch. E vi dico la verità, io pensavo che lui foldasse. E infatti lui avrebbe dovuto foldare. Perché tutte le volte che faccio Imdall la partita la vinco io. Credo. Sicuramente a sinistra, quantomeno. Quindi pensavo foldasse. Vabbè. Basso. Basso. Ah. Vabbè. C'è interessante, raga, eh. Attenzione. Ma peccato che è un junk, lui. Peccato che è un junk, lui. Ma ha messo lo sfondo rosso sulla carta base. Ma lui è poverissimo, eh. Mi dispiace, è un sacco. Io snapperei. Miau. Problema se sposta lui col mio Hercules. God. Ok. Ok. Il problema è che adesso, ragazzi, non ci ho prio io. Sto pensando. Sto pensando. Allora. Ghost Spider. Cioè. Human Torch. Ghost Spider. Vulture. Secondo me, ragazzi, è vinta. Il problema è se c'è Killmonger. Lui non penso abbia Killmonger, però. Lui è un... Un bounce. È un bounce. Non è un bounce, scusatemi. È un... Dai, è un fio di troia. Non so che dirti. Vediamo se prende... No, che cu... Follia. Secondo me non lo countera mai, però, il Living Tribunal. Vediamo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Bellissimo, bro. Orco tu, Ben. Arato, demolito, distrutto. Veramente. Che bello. Che bello. Che soddisfazione. Che bellezza. Che beltà. Che culo. Che culo, pure. Che culo. C'è da dirlo, Ben. Ci ho messo un secondo per capire che Tribunale sarebbe stata la giocata più forte possibile. Bene. 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 Vabbè. Diciamo che tendenzialmente l'idea del mazzo è quella di trovare anche Aragna e Madame Web. Ma se noi riusciamo a vincere senza Aragna e Madame Web, vuol dire che siamo ineluttabili, regà, perché non è possibile che io stia giocando senza Madame Web e Aragna. Non trovate una partita sulle tre già fatte. Ovviamente questo è un pianisteo per trovarla. Niente. Niente proprio. Follia, bro. Follia. Follia. Passo. Follia. Passo. Ah, veramente. È impossibile bricare così comunque, eh. Follia, man. Ti rendi conto che di quante cose sono di follia? Io ho capito, ma... Tendenzialmente il mazzo riuscirebbe a vincere lo stesso, per carità di Dio, ma... Adesso è assai dura. Ercole è qualcosa. Ercole è qualcosa. Va bene. Non è un problema. Giuro. Questo è un problema. Giuro. Questo è un problema. Non credo che... Poi chiediamo... Snap. Oh, sto bene, eh. Tossicissimo qui. Un attimino, ovviamente. Mica, raga, se non mi prendete la tribunale vivente in due location... Gli spaccavo il culo. Il tribunale era OP. Per il tribunale saremmo riusciti a andarli sopra anche su Barodia, nel quale lui ha giocato Wet Widow. Allora, veramente, ma... Quattro game che non trovo Madame Web. Spero di fare un video senza Madame Web, no? Alla fine, com'è quello che dico io? È molto più bello vedere i mazzi quando briccano, per poter capire effettivamente la loro forza. Sì. È una grande cazzata questa, lo dico... Mentre piango, lo dico, mentre piango. Passo. È una bella mano. È un'ottima mano. Wakanda? Oh, signore di Dio, bro. Mamma, quanto ce n'è voluto, ma... E abbiamo la godenda, raga. E abbiamo la godenda, raga. Abbiamo la godenda, capo. Ercole. Wow, ok. Dobbiamo, dobbiamo... Dobbiamo scalare bene per vincere questa partita. E no, scusate, mi sto sbagliando. Ercole si è in mezzo. Stavo sbagliando. Ok. Calma. Ovviamente non sappiamo dove sbatte Hercules. Iron Faust, Human Torch. Ghost Spider. Ok. Questa è la play. Io spero che senza ragna comunque riusciamo a scalare bene con sto Human Torch, ragazzi. Ma non ne sono convinto. Vediamo, vediamo. Living Tribunal. Ottimo. Dotto Strange. Vista. Penso che perdiamo adesso. Avete visto, ragazzi miei, come funziona sto mazzo? Dovete essere perfetti, precisi, nella... Nel capire dove effettivamente mettere le carte. E... E attenti perché Hercules va gestito molto bene perché è randomico. Quindi magari gridate meno, come abbiamo fatto anche questa partita. Cercate magari un rimbalzo in meno, ma... Ma che culo? Lì è questa roba qui? Ma che culo? Vai. Non so quanti punti faccio, ma... Magneto, porco Dio. Dovrei vincere lo stesso, regà. È troppo grosso Human Torch. 19? Quanto cazzo godo? Quanto cazzo godo questo mazzo, bro? Quanto cazzo godo? Porco Dio! Molto bene! Madonna, capo, che bello. Avete visto, no? Dovete essere chirurgici, precisi. Dovete sempre fare Beast e dovete sempre avere la situazione a vostro controllo. Beast sempre su Iron Fost e su Human Torch. Cercate anche un rimbalzo in meno su Living Tribunal. Perché, regà? Perché se voi turno 5 fate Dotto String sul Living Tribunal e Beast... Poi Beast sapete il 50 e 50, perché Beast vi deve andare sotto Iron Fost. O comunque con Beast dovete prendere Human Torch. Quindi fate il bounzino su Living Tribunal alla fine, perché comunque alla fine 30 punti a location, no? Sono sufficienti, eh. Bene, bene, bene. L'hai montato? Lo riemoto? Così. È adorabile, man. Adoro questo mazzo. Cioè, è troppo, 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 troppo bello. Troppo, troppo bello. Ok, buono sia ragna che Madame Web. Buono, 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 buono. Certo, ala, fa un po' cagare. Che ti devo dire. Devo farlo a destra. Vedo che lui non sta facendo niente, però noi non abbiamo punti, ma... Ce la ciliamo, bro? Patriota. Brick. Brick. Dagger. Human Torch. Vulture. Tre carte su cinque, tutte nel mazzo. Vediamo se saranno tre carte su quattro. No, però, una merda. No. Purtroppo, no, abbiamo... Allora, con Human Torch la, 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 la potevo anche pensare di chiamà. Però, no, no. Qua, qua ragazzi si volta sempre un cubo. Come vedete non si perde un cazzo, non si perde. Non, non vi imbasterdite, eh. Rimanete focussati, bro. Dai, sveglia. Vinciamo questa. Culo c'hai tu. Troia. È tu madre. In un po', cazzo di dire. Per il tempo sto guardando il pesto misto che si sta tutto insinuando camaleontico tra le zone vietate di Star Wars. Dell'alba cremisi di Mirogana. Sono convinto che voi sappiate di cosa stiamo parlando. Olle. Ok, ok, sempre contento quando vedo Hercules. So che si dice Hercules, quindi per quello lo dico Hercules, però, non so. Voi potete anche chiamarlo Hercules. Andiamo. Dimensione dei sogni. Me la collo. Passo. Qua, se avreste fatto... Avesse fatto Human Torch in mezzo, ragazzi miei siete negati, eh. Mi incazzo, mio caro. Sveglia, sveglia. Sveglia. Wow. Eeeh... Snap! Snap! Non... 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 Ah, boh! No! Folia! Eh, non penso che io possa snappà. Fratello, cado Killmonger, bro. A caso. Per aragna. Veramente brutta sta play, secondo me, da parte sua. Posso essere un resto, raga? Veramente, veramente brutta. Io sono il Sorcero Supremo. Tu lo znappà, ve? Vero? Tu lo znappà, ve? Eeeh... Forse dovevo snappà, forse no, in realtà. Io sto bene così. Voglio perdere Prio, capito? Wow. Ah, noi non vinciamo sta partita? Noi sto credendo non lo vinciamo manco per sbaglio. Oddio. Se lui fa l'aiotto in mezzo, che succede? Sono 24. Sono 6. Differenza 5, lui. 7, 8, 9. 24. Vince lui. Ma non fa mai, secondo me, l'aiotto in... Potrebbe fare l'aiotto in mezzo, raga. Ma anche sinistra. Non lo so, a me non mi sembra il massimo sto ragazzo di Sapienza. GG, buono. Bello. Bello! Oh! Sono esaurito. Bello, 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 bello. Che bello, ragazzi. Il bounce, move, live in tribunal. Uno spettacolo, raga. Come cazzo ho fatto a fare a rosinistra quando lui sapeva che avevo Human Torch, bro? Come ti viene in mente di fare una roba del genere, rank 200, man? Come come... È assurdo, no? Io ho 104 americani. Ma sei più scarso di loro, tu. Dai. Va bene. Raga, questo è il mio mazzo preferito del momento. Cioè, veramente, bro... Vi ripeto, da giocare è un po' tricky. Però, insomma... Con questo video imparerete sicuramente le piccole regole e le basi che ci vogliono per giocare al meglio il bounce, move. Bene. Arigà! Siamo in LST Twitch, ti sto aspettando, bro. Mi devi 5 sub. Non è vero, mi devi niente. Grazie a tutti per supportare i video. Con like, commenti... O, semplicemente per guardarli, nel mentre, un buon proseguo di giornata. Un grosso abbraccio. È bella. Grazie a tutti.